direi che siamo live eccoci sì ciao a tutti io sono Mian Catenaro dell'associazione video doc con me e la mia collega Cecilia e ospite con noi oggi per l'ultimo incontro di Younger Lab Formazione Strumenti abbiamo Silvia Dell'Acqua di H-Farm e in particolare Head of Corporate Development Career Service di H-Farm Education grazie Silvia per essere qui noi oggi parleremo delle professioni del futuro e Silvia ci racconterà un po' di H-Farm e ci darà un po' di spunti utili a tutti i giovani prego allora innanzitutto grazie ad Emilio Doc per avermi invitata a questo incontro ormai dopo la pandemia questo è il nuovo normale quindi ci fa molto piacere di raggiungere le più persone possibile giovani che insomma sono interessati a sapere dove sta andando il mondo e devo dire che per prepararci al meglio bisogna insomma capire quali sono i trend e formarsi esattamente in quei posti dove dove insomma si cerca un po' di capire dove va il mondo e voglio vorrei iniziare condividendo con voi un dato che è molto parlante di quello che sta succedendo oggi vale a dire che normalmente fino al 2006 quindi non è che si parla della preistoria un professionista durante la sua carriera lavorativa cambiava sei posti parliamo del 2021 e da questi sei posti siamo arrivati a 17 e questo ci sta dicendo qualcosa vale a dire che è vero che diciamo ci si innamora anche di una professione e di un'idea però è anche vero che quello che è molto importante è la versatilità vale a dire continuare ad aggiornarsi non solo continuare a formarsi e avere un'evoluzione di quelle che sono le proprie conoscenze e competenze che non deve farci paura il cambiamento è qualcosa con cui noi coesistiamo e che noi e su cui noi abbiamo un impatto quindi fa sì che noi siamo degli attori responsabili di quello che sta succedendo ovviamente quando si è all'interno di un cambiamento non ci si rende conto perché lo si sta vivendo in quel momento però magari da qui a 5 anni da qui a 10 anni si può dire caspetta però quante nuove competenze ho acquisito e per questo è importante capire quali sono i luoghi in cui questa dinamicità si può acquisire e dove si è immersi in tutto questo per questo oggi vorrei raccontarvi della realtà di H-Pharm College che si inserisce in un ecosistema molto più ampio vorrei a questo proposito condividere con voi la presentazione che spero vediate di H-Pharm College questo è il nostro logo è un trattore perché ci troviamo nella laguna vicino alla laguna Veneta in un paesaggio bucolico in cui però natura e tecnologia coesistono in un modo unico in Italia in particolare questo è l'ecosistema di H-Pharm in cui H-Pharm College si è diciamo si innesta abbiamo queste tre aree che sono l'una all'interno dell'altra education startups e consultancy uno studente che viene qua sia che sia uno studente di un BA oppure di un master oppure di un master executive riesce a respirare quest'aria e questo ecosistema e questo fa sì che non si venga formati solo su delle materie accademiche ma che invece ci sia un arricchimento anche di quelle che sono le competenze e si respirano e si applicano anche i trend che interessano il mondo del lavoro in quel momento benissimo vorrei farvi vedere questo video se si può condividere a 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 an Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Proprio nel video che abbiamo visto c'è questo concetto che secondo me è molto bello che i tuoi schoolmates sono i tuoi teammates perché proprio c'è questo binario parallelo tra quelle che sono le conoscenze che sono le competenze. Qui potrete già applicare quello che state apprendendo e direi che non è poco perché molto spesso in altre università che magari hanno un'eccellenza accademica che è pari a H1 College però poi non danno la possibilità di applicare. Quindi ci si deve cercare da soli altri percorsi professionalizzanti. Invece qui potete diciamo vivere queste due esperienze contemporaneamente. Perché lo facciamo? Perché H-Pharm è nata nel 2007 come laboratorio di start-up. Poi sono passati diversi anni e piano piano si è evoluta diventando un nodo fondamentale per la consultancy nel campo dell'innovazione. e poi in un terzo momento si è aperta al mondo dell'education e quindi è riuscita a instillare all'interno dell'education un seme di innovation che in qualche modo ha sublimato questo DNA che era già molto forte nel campo dell'innovazione, di essere cutting edge, di essere sempre alla frontiera. E tutto questo può essere vissuto in un ambiente accademico che è un po' diverso rispetto agli altri che potete trovare in Italia e anche in Europa direi che abbiamo un vantaggio competitivo molto importante. Questa penso che sia una slide che sia molto importante per voi perché vi fa capire come eccellenza e proposta innovativa possano convivere. Tra l'altro i nostri studenti se siete interessati a un percorso accademico iniziale dopo tre anni trovano lavoro come vedete l'85% di loro ha trovato lavoro dopo due mesi e questo direi che è un dato molto importante perché la nostra è a tutti gli effetti una laurea professionalizzante. Poi se dopo tre anni appunto volete affacciarvi sul mondo del lavoro in un secondo momento poi potete sempre decidere di continuare gli studi. Però questo per noi è molto importante perché a volte si vuole prima saggiare quello che è lavorare insomma in determinate realtà che interessano per il tema dell'innovazione e della digitalizzazione e poi magari si decide di continuare i propri studi in un secondo momento. Questo è proprio il setting di cui vi parlavo, una università completamente immersa nella natura dove imparare è un'esperienza. Questo è un concetto molto importante perché? Perché quando si impara tramite le esperienze si impara in modo molto più efficace. In effetti l'apprendimento formale è un qualcosa che appartiene al passato anche nell'ambito accademico. Quello che è importante è il trasferimento di conoscenze che però vada di pari passo con l'accumulo di esperienza. Il fare ci permette, permette al nostro cervello di apprendere molto più velocemente e di tenere quelle che sono le competenze e le conoscenze che abbiamo acquisito e qui a H-Pharm College succede esattamente questo. Questo è il tipo di innovazione su cui noi lavoriamo con i nostri studenti, creiamo, co-creiamo con voi quello che è il vostro pathway. Anche questo è molto importante, la personalizzazione è una delle chiavi oggi dell'istruzione di qualità, della formazione di qualità, perché non tutti apprendono allo stesso passo e non tutti hanno le stesse esigenze. Quindi è vero che un punto di partenza deve essere il medesimo, però poi lo sviluppo del percorso di apprendimento deve essere differenziato per ogni studente affinché si abbia un impatto in quella che è la propria vita, sia personale sia anche professionale se si pensa all'executive education. Deve essere un'esperienza immersiva, vale a dire che il momento dell'apprendimento non è solo in classe, ma viene vissuto nei vari momenti che vengono proposti allo studente e a chi partecipa all'executive education. Questo cosa vuol dire? Che noi offriamo anche tutte delle esperienze a latere, che non sono vissute in classe, ma che insegnano allo stesso modo, vale a dire delle inspirational talk. Possono venire delle imprenditrici, degli imprenditori a raccontarci le loro storie di insuccesso e poi di successo, perché anche questo è molto importante. Esponiamo i nostri ragazzi a delle esperienze uniche. Proprio questa settimana abbiamo avuto un role game in cui loro hanno investito in delle start-up, facciamo anche delle simulazioni in questo senso. Quindi, ecco, queste esperienze potete averle qui in H-Farm College. Abbiamo anche un aspetto gastronomico che è sicuramente di valore, ecco, perché è food for thoughts, che è sempre comunque importante, dato che siamo in Italia, anche questo è distintivo. Abbiamo sia una mensa, sia un bistrò all'interno del campus, che sono gestiti dalla famiglia Laimo. E poi, quello che è molto importante e che penso sia un po' quello che è la molla per allineare quelli che sono i propri desideri alla scelta dell'università e poi alla scelta anche del percorso di executive education da fare, è l'employability, l'impiegabilità. Quanto questa università, quanto questo executive master aumenterà le mie possibilità di avere o un inserimento nel mondo del lavoro o un upgrade all'interno del mondo del lavoro? È molto comprensibile ed è molto importante che ci si chieda questo. E noi cerchiamo di dare una risposta il più possibile coerente a quelle che sono le vostre esigenze in questo campo. Questo per darvi un'idea del network di aziende che fanno parte dell'ecosistema di H-Farm. Ce ne sono molte altre, qui vedrete alcuni loghi che sono noti e diciamo che tutte queste aziende ruotano all'intorno del mondo di H-Farm, anche vengono qua, quindi potete essere esposti a delle challenge con queste aziende, a delle inspirational talk, a dei festival, future shots per esempio c'è appena stato. Quindi quando si entra in farm effettivamente si è esposti ad un pensiero laterale a 360 gradi. It's always seems impossible until it's done. Pensiamo che questo pensiero di Nelson Mandela sia un po' un faro che può illuminare tutti e che può ispirare l'azione di tutti qui in H-Farm e in particolare in H-Farm College. Cerchiamo di far vivere questo principio all'interno di ogni nostra iniziativa. Nello specifico vi starete chiedendo quali bachelor offre H-Farm College. Eccoli, il bachelor's in digital management, bachelor's in digital economics and finance, bachelor's in international business studies. Direi che il DNA di H-Farm College è digital. Lo applichiamo sia al management, sia all'economia, alla finanza e sia agli studi di business. Allo stesso tempo fiamo anche dei master universitari, master's in digital marketing and data analytics, master's in digital transformation and entrepreneurship, master's in management, digital business and finance, master's in entrepreneurship and applied technologies. Poi abbiamo una serie di executive masters and MBA. Ora, non ve li leggo tutti, ma se poi volete andate sul sito di H-Farm College e potete trovare le informazioni su questi diversi master e potete anche scaricare le brochure, potete essere in contatto con le program manager di ogni singolo master per chiedere tutte le informazioni e le delucidazioni. Quello che posso dirvi è che comunque il DNA è quello digitale, quindi che si tratti dell'e-commerce, che si tratti della digital entrepreneurship, che si tratti del design del prodotto, c'è sempre questo, diciamo, elemento di digital e di innovation che sono un firouge all'interno di quelle che sono le nostre proposte di formazione e di continuous learning. Inoltre abbiamo anche degli short programs che sono appunto in digital marketing, sport and digital revolution e ancora dei certificate reskill you e dei programmi estivi. Questi sono i nostri partner. Pensiamo che sia molto importante essere all'interno di un network di partner importanti per crescere insieme perché comunque per quanto si possa cercare di eccellere nel proprio campo è anche molto importante attivare delle strategic partnership per crescere ancora meglio e per essere ancora più innovativi. Come vedete spaziamo sia dall'Europa agli Stati Uniti e ovviamente questo rende la nostra affetta formativa ancora più ricca. Vorrei poi darvi uno overview su quella che è l'esperienza del campus che penso sia altrettanto importante rispetto a quello che si studia e alle esperienze che si fanno perché ormai è, diciamo, patrimonio di tutti la consapevolezza che l'ambiente è il terzo fattore fondamentale per avere un impatto nell'apprendimento. Lo stesso spazio in cui si insegna, cioè la stessa materia, se insegnata in due spazi diversi, avrà un impatto completamente diverso anche solo come sono disposti i tavoli, dove è il professore, dove è il trainer, cambierà completamente la vostra esperienza di apprendimento. potrà essere immersiva, potrà essere frontale, avrà un impatto completamente diverso. Queste sono le nostre facilities, abbiamo le classrooms per il bachelor, per il master, per l'executive master, che ovviamente sono diversamente ampie, poi delle aule per studiare e anche degli spazi in cui potrete incontrarvi con gli altri compagni di percorso. Abbiamo anche una parte di facilities per la residenza, come vedete sono camere piuttosto nuove perché sono state realizzate nel 2020, c'è il free wifi, la laundry e poi si condivide il bagno con un massimo tre persone, quindi comunque anche delle facilities molto buone. Poi abbiamo il welcome center, che comunque dà diversi servizi, abbiamo il locker per Amazon e poi una reception che è sempre aperta, nonché uno shop di H-pharma. Molto interessante per gli studenti, è il nostro sports center, come vedete abbiamo, qui si possono praticare praticamente tutti gli sport, tennis, basketball, soccer, padel, volleyball, fitness, skate, running tracks, rugby e baseball, quindi mens sana in corpo e sano. Ultimo e non da ultimo, abbiamo una biblioteca fantastica, questa è la biblioteca, è stata progettata dall'architetto Rogers, che è lo stesso che ha progettato il Bovurg e abbiamo un auditorium molto grande, da 800 posti e una biblioteca che ha libri sia fisici sia ebook, che sono consultabili, nonché anche riviste, e dove si può andare a studiare dopo che sono finite le lezioni o tra una talk ispirazionale e l'altra. Benissimo, questa è una panoramica su quello che è HFAM College, sia dal punto di vista accademico, delle conoscenze, delle competenze, della coesistenza tra innovazione, startup e formazione, e anche di quello che è l'ambiente che ci circonda, perché è altrettanto importante per avere un impatto su quella che è la propria formazione, con un occhio sempre all'impiegabilità. Vi ringrazio per la vostra attenzione e se ci sono domande sono qui. Grazie mille Silvia, tanto è stata una panoramica su HFAM molto ampia, approfondita, anzi complimenti perché sembra un posto veramente stupendo e stimolante. Soprattutto quindi sulla base dell'esperienza che state avendo in questi anni nella parte in educational, cosa, tirando un po' le somme, ad esempio sui consigli che si possono dare ai giovani che avete incontrato e che magari sono usciti dai vostri percorsi formativi, immagino che avete anche pensato a questi percorsi appunto, come dicevi, sui trend del lavoro e delle professioni. Quali consigli magari ti sei trovata a dare o vorresti dare adesso ad esempio ad altri che hanno bisogno magari di un po' di orientamento, su cosa si potrebbe scegliere come formazione, ma anche come lavoro futuro, ad esempio? Allora, grazie per la domanda. È una domanda che mi fanno tante volte e io rispondo in questo modo. i lavori che esisteranno tra uno o due anni e anche tre magari ora non esistono ancora perché c'è una accelerazione talmente grande di quello che è il mondo physical and digital che è veramente difficile predire. Ora possiamo dire il cloud architect è una professione per cui c'è una grande ricerca. Però è anche molto rischioso dire questo perché giustamente gli studenti si affidano a noi e quindi magari iniziano a diciamo guardare dove possono acquisire quelle competenze vengono qua da noi. Però secondo me diventa un po' forviante questo discorso perché c'è un'evoluzione talmente grande che quello che io posso dire oggi magari rivediamo questo video tra sei mesi e risulta quasi ridondante o vecchio sorpassato. Invece quello che è importante è più che chiedersi quali sono i lavori che saranno più ricercati è come posso io nell'ambito dell'innovazione acquisire delle competenze che fanno sì che io possa cavalcare il cambiamento non essendo noi travolto ma convivendo con il cambiamento in modo sereno. E questo lo posso fare se io scelgo un corso universitario in cui competenze e conoscenze vanno di pari passo in cui sono esposta esposto a un pensiero laterale continuo che viene da più parti e in cui posso avere delle occasioni di scambio e di confronto sia peer to peer con i miei compagni di percorso ma anche con qualcuno che ha qualche anno in più e che ha vissuto altre esperienze che mi può aiutare a leggere quello che sta succedendo e poi aiutarmi anche a dare la mia lettura su quello che sta succedendo. Ecco perché dicevo di non innamorarsi troppo delle proprie idee vorrei fare questo vorrei fare quello che cosa vuole il mondo del lavoro invece quello che è importante è avere delle solide competenze e conoscenze e poi essere attivamente coinvolto e o in un lavoro oppure in un'occasione di formazione capire come si può fare la differenza penso che questo sia la cosa più importante non per forza fissarsi su una qualche professione che si ritiene quella di questo momento perché poi potrebbe essere completamente diversa tra sei mesi invece se si ha un'attitudine positiva nei confronti del cambiamento dell'imparare e imparare che è una competenza direi universale fondamentale allora ci si potrà anche sentire a proprio agio in un altro ambiente di lavoro facendo una professione che magari a cui non si era pensato in un primo momento e si può scoprire caspita però anche questo è interessante quindi io direi un po' di diffidare di chi vuole indirizzare qualcuno verso una determinata direzione io penso che prima di pensare a un lavoro che può cambiare pensiamo alle competenze che vogliamo acquisire all'attitudine positiva nei confronti del cambiamento e dell'innovazione perché è un qualcosa che si dà quasi per scontato che ho chi dice non voglio l'innovazione però un conto è il pensiero un conto è invece prepararsi per l'innovazione e convivere in modo positivo con l'innovazione questo direi che è un primo pensiero e penso che questo sarebbe un aiuto per i giovani cioè chiediamoci veramente come possiamo convivere bene con l'innovazione se invece non è qualcosa che ci fa paura al di là del fatto che nessuno direbbe sono contro l'innovazione e poi secondo me tutto il resto viene diciamo di conseguenza in modo positivo aiutandoci a trovare la strada infatti noi proprio per questo organizziamo una summer school nel luglio 2022 di orientamento saranno cinque giorni in cui faremo immergere i ragazzi di 18-19 anni che vorranno venire qua a H-Found College in diverse diciamo discipline non solo quelle che sono insegnate qua a H-Found College ma anche ad altre di modo che i ragazzi possano essere esposti a un pensiero laterale magari scoprire che hanno degli interessi che non avevano pensato perché proprio è di orientamento questo per noi è importante la funzione di aiutare a capire dove si vuole andare io avevo una domanda volevo sapere avevamo visto anche tramite il vostro sito che c'è la possibilità di accedere per chi ha la necessità a delle borse di studio ovviamente insomma questo aiuta l'accessibilità insomma a tutti e tutte e questo avviene per tutti i corsi che voi proponete e si avete un bando cioè come si accede a questo perché non so credo possa essere una cosa interessante sì sì sul nostro sito ci sono tutte tutte le informazioni nel senso che ovviamente è un'entrata diciamo così selettiva e c'è la possibilità poi se insomma vengono incontrati tutti i criteri che sono stati stabiliti di praticamente ripagare quello che è il prestito che è stato fatto per appunto studiare quindi questa è un po' la logica e la selezione no scusami i criteri di accesso si fanno tramite un esame insomma c'è un numero chiuso quindi in base a quello con una graduatoria si accede ai corsi e l'accesso è ogni anno? allora diciamo che per il corso di digital management c'è una cioè ci sono criteri precisi di entrata e sì è annuale diciamo che sono un pochino più stringenti rispetto agli altri due corsi di laurea perché il corso di laurea in digital management è erogato in partnership con Cafoscari mentre per quanto riguarda gli altri due corsi finance and business and business studies diciamo che sono erogati con l'università di Chichester è tra le prime 30 università britanniche come qualità e la selezione è effettivamente meno stringente rispetto al corso di digital management ok allora insomma mia tu avevi delle domande da fare? sì volevo un attimo anche capire meglio il fatto della summer school ad esempio appunto vi aspettate che a 5 giorni arrivino ragazzi dai 18 ai 19 anni per poter come dicevi tu vivere un'esperienza tutto tondo e cercare di orientarli come sarà organizzato se avete ovviamente già qualche informazione in merito così sì assolutamente stiamo proprio definendo in questi giorni però posso diciamo condividere con voi alcuni dettagli anzi mi fa molto piacere fare questo perché noi vorremmo avere giovani da tutta l'Italia perché pensiamo che H-Pharm e H-Pharm College siano un patrimonio nazionale è un luogo unico e quindi vorremmo che fosse conosciuto e vissuto dal numero più alto possibile di giovani e come dicevo il nostro DNA è digitale e innovativo però proporremo anche delle materie degli affondi anche su discipline che noi non abbiamo ingegneria chimica letteratura perché pensiamo che una summer school debba avere la funzione dell'orientamento ovviamente proporremo anche temi di fintech e digitali di imprenditorialità però non solo quelli perché pensiamo che la funzione di H-Pharm College e di H-Pharm sia anche quella di far scoprire il proprio talento ogni singolo ragazzo o ragazza quindi presto troverete informazioni sul sito di H-Pharm College e quindi insomma speriamo speriamo di avere rappresentanza da tutte le regioni d'Italia la prossima estate qui io volevo fare un'altra domanda volevo chiedere visto che i corsi di cui parlavi prima sono in inglese qual è il livello necessario per poter accedere e se poi c'è la possibilità di migliorare anche il proprio inglese durante il percorso questa è una domanda assolutamente pertinente allora ho detto sinceramente io penso che serva un livello di inglese che sia buono perché comunque le lezioni sono in inglese e anche diciamo gli esami e le prove sono tutte in inglese quindi per trovarsi a proprio agio penso che sia giusto ecco verso se stessi avere una padronanza che fa sì di essere sereni ecco di non avere una barriera linguistica allo stesso tempo per quanto riguarda le lauree che sono regolate con Cicester quindi finance e business studies c'è anche la possibilità mentre si frequenta di migliorare il proprio inglese quindi c'è anche questa possibilità però ecco tutti i dettagli sul livello B2 C1 eccetera insomma possono essere consultati sul sito così si può essere precisi ecco ok certo e non so se ci sono delle altre domande no per adesso mi sembra di no insomma comunque diciamo che qualsiasi rimetteremo i link di di H-Parm College e la presentazione in modo tale insomma che così chiunque sia interessato possa andare a ricercarsi ecco delle informazioni magari più specifiche rispetto all'argomento tra l'altro il nostro sito è molto interattivo quindi poi si può interagire con le nostre program manager noi abbiamo una program manager per ogni nostra offerta formativa quindi per ogni singolo executive master universitario e per IBA quindi penso che se appunto ci sono delle domande specifiche sia la cosa migliore scegliere quella che è l'offerta formativa e scrivere a loro e ovviamente sono disponibili anche per delle videochiamate ci saranno degli open day a cui siete caldamente invitati perché comunque penso che possa fare la differenza venire qui e vedere di che cosa si tratta perché effettivamente questo fa la differenza nella formazione di qualità una domanda su questo a proposito alla fine dei percorsi un po' per tutti magari a parte quegli executive immagino però ovviamente dici tu lì dove ci sono già persone che sono anche lavoratori lavoratrici immagino però nel caso magari di dei percorsi triennali e dei master date anche un supporto alla fine del percorso per aiutare i ragazzi e le ragazze a trovare delle opportunità lavorative o dei contatti grazie Mianu per questa domanda io sono anche responsabile del career service e dell'alumni di H-Found College e per noi questo è un servizio fondamentale perché si lega in modo molto importante con il concetto di impiegabilità che non deve essere solo parte della narrativa di una università ma deve essere proprio organico a quello che si fa e a come si progetta proprio il percorso accademico e da questo punto di vista noi siamo all'avanguardia perché nel secondo semestre del terzo anno noi offriamo la possibilità ai nostri studenti di fare uno stage di sei mesi presso un'azienda noi proponiamo le aziende quindi abbiamo tutto tutta una parte di selezione ma non di uno stage di un internship project vale a dire le aziende devono proporci un progetto specifico dirci su che cosa lavorerà il nostro studente con chi e con quali obiettivi gli studenti poi si candidano vengono selezionati partono da gennaio a giugno e scrivono la propria tesi sul loro internship project non hanno altri esami da frequentare quindi questo fa sì che siano completamente concentrati su questa esperienza professionale che nella gran parte dei casi è la loro prima esperienza professionale e noi ci teniamo che abbiano un tutor aziendale un tutor accademico che li aiutino proprio nella progressione di quella che è la loro prima esperienza lavorativa inoltre quando i nostri studenti finiscono il loro percorso di studi dopo tre anni entrano a far parte di una comunità di allumni a cui noi teniamo molto perché comunque pensiamo che una volta che si entra a far parte dell'ecosistema di H-pharma si abbia anche la volontà di farne parte per sempre questo è quello che ci dicono i nostri allumni che sono molto affezionati proprio perché hanno vissuto in modo totalizzante a 360 gradi e proprio pensato per sé questa esperienza accademica oppure di training executive e quindi organizziamo diversi eventi ispirazionali anche ludici con loro proprio perché ci teniamo a mantenere questa comunità e anche loro vediamo che ci tengono a continuare a farne parte mi sembra veramente una panoramica interessante stimolante soprattutto per chi è avere delle informazioni in più appunto metteremo il sito per trovare tutte le risposte e chi si dovesse essere collegato adesso troverà salvato il video nella sua versione integrale e non so mi sa che al momento non mi siano che ci saranno altre domande sì noi metteremo il video su youtube su youtube degli flash giovani in informazione del comune di Bologna e successivamente questi materiali saranno inseriti anche nel sito regionale dell'Emilia Romagna GiovaZoom e noi ti ringraziamo tanto Silvia per averci dato tutta questa panoramica su Hitchfarm e sicuramente anche la riflessione fatta sul talento non focalizzarsi sul lavoro preciso e quindi su una professionalità ma solo scoprire durante il percorso tutta una sfera di nuove competenze nuovi interessi è sicuramente un consiglio utile per i giovani che magari negli anni passati dovevano fare determinate cose solo quelle senza guardarsi troppo intorno e andare avanti invece in questo modo è sempre più interessante scoprire che anche le realtà come Hitchfarm esistono intanto come prima cosa e sembra davvero un'esperienza molto bella quindi niente noi ti ringraziamo per essere stata con noi e questo era l'ultimo incontro del progetto Younger Lab informazione strumenti realizzato dall'informazione del Comune di Bologna con Emilio Doc APS grazie a tutti per averci guardato io ringrazio voi ringrazio voi per l'invito e ringrazio anche tutti coloro che sono stati a sentirci fino ad ora e che ci sentiranno poi in seguito grazie grazie tante grazie mille ciao 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 grazie ciao